Ciao a tutti, benvenuti, grazie per essere con noi questa sera. Abbiamo l'onore e il piacere di avere Carlo Lesma con noi che ci racconterà alcune cose interessanti. Il tema di questa sera sono aromaterapia e meditazione con un occhio diretto all'ansia, allo stress e al sonno. Così parleremo un po' in generale e poi magari qualcosa nello specifico per questo tipo di problematica o disturbo come vogliamo chiamarlo. Quindi Carlo io ti passo la parola, è tuo. Grazie Claudia, grazie per queste belle serate che poi ne faremo altre sicuramente. È un inizio di tanti altri webinar, è un inizio di tante altre opportunità dove andremo a parlare sempre di più nello specifico di meditazione associata al benessere, al benessere mentale e fisico. Sta di fatto che molto tempo qua, quando stavo facendo dei tour insieme a Beppe, c'era con me anche Anna, e si parlava spesso di trovare delle essenze utili per poter fare meditazione, per entrare subito in meditazione e associare, perché molte volte ci dimentichiamo che abbiamo delle memorie interno al nostro corpo, alla nostra parte emotiva collegata ai profumi, collegata agli odori. Qui Anna probabilmente è più esperta di me, probabilmente magari un'altra volta farà un webinar lei, nel quale parlerà di più nello specifico di come vengono associate queste esperienze emotive connesse ai profumi, agli odori. Altre volte entriamo in un negozio, oppure passa una persona accanto a noi e ci ricorda un'esperienza, ci ricorda una parte della nostra storia. metto il silenzioso. Quindi, tanto tempo fa, già un anno fa, parlavamo insieme di studiare almeno tre oli essenziali, o meno tre profumi da poter mettere in casa per entrare subito e rapidamente in un rilassamento profondo, o comunque togliere le resistenze, togliere alcuni stati emotivi che spesso anche la nostra casa, il nostro ufficio genera. Molte volte entriamo in un ambiente professionale, un ambiente lavorativo dove sentiamo forte stress. Altre volte entriamo nell'abitazione, in casa e sentiamo resistenze, sentiamo blocchi. Così accade nella nostra vita quando pensiamo a qualcosa oppure quando emotivamente siamo attaccati a qualche ostacolo, a qualche problema. Allora, nel mio pensiero, nella mia mente, cercavamo di studiare quali erano gli oli o quali erano le essenze che potevano essere abbinate alla nostra esperienza, collegandole alla meditazione. Poi sei arrivata tu, cioè sei arrivata tu e in un modo così, naturale, ci siamo visti, ci siamo incrociati e mi hai detto quello che fai? E ho detto, guarda, ci sono già fatti, il prodotto è già fatto. Quindi mi hai spiegato che cos'è e mi sono affezionato a questo tipo di prodotto, anche se dico la verità, sto ancora sperimentando, ancora lo sto provando su di me. Tant'è che quando abbiamo fatto l'altro corso a Torino, c'erano 18 partecipanti in aula, in una stanza che non era grandissima, avevo portato tutti questi oli essenziali che ho preso da te e volevo fare un esperimento, c'era un primo esperimento, finché mai provi non puoi sapere. Ho chiesto a tutte le persone di provare un olio, un olio essenziale che gli piaceva di più, che gli dava più emozione, li faceva sentire bene. Fatto sta che 18 persone si sono catapultate su questi oli, ho detto ragazzi mettete solo un olio, una goccia, non mettete tutta la boccetta. Fatto sta che c'erano persone che avevano le mani sporche di olio, insomma un casino, ma non era solo il fatto di trovare tutte le persone che avevano le mani piene di olio, il problema è che tutta l'aula era piena di profumi, cioè avevo le narici grossissime, ormai non capivo più niente, allora abbiamo aperto l'aula e infatti la meditazione non è venuta come doveva venire. Infatti il punto fondamentale è di utilizzare una goccia e utilizzarla con intenzione. Ora facciamo un passo indietro, volevo spiegare come siamo arrivati, no Claudia, come sono arrivata a te e come ci siamo incrociati. E' stato straordinario dove mi hai detto guarda ci sono questi oli essenziali che si possono abbinare alla meditazione. Ogni olio essenziale corrisponde alla nostra parte emotiva e quella parte emotiva se abbinata non solo alla meditazione, se abbinata a uno stile di vita, a un pensiero orientato alla risoluzione, l'olio essenziale va a smuovere che poi dopo mi dirai tu qualcosa di più perché alla fine sei tu l'esperta in questo, l'olio essenziale va a smuovere alcune energie, tant'è che mi hai mandato anche un video delle molecole cellulari che si muovono attraverso questi oli essenziali e l'ho detto caspita facciamo delle meditazioni collegate agli oli essenziali. Abbiamo sposato questo progetto. Ho preso questi quanti sono? Scusami Claudia, gli oli nella prima confezione? 10 oli. Come? 10 oli. 10 oli e ci sono vari oli che io sto provando, sto provando in questo periodo di tempo non solo attraverso la meditazione ma anche proprio come qualità di energia, qualità di focus tipo l'altra volta ho provato il balance e sono molto più focalizzato nel creare progetti nell'essere nel qui e nell'ora. Poi c'è la lavanda che uso spesso durante la sera, durante la notte, prima di andare a letto. C'è il peace che lo uso al mattino. Sono vari profumi che ci sono le essenze che ho qua con me. Però al di là di questo parto da un presupposto che l'olio è fondamentale dal momento in cui vogliamo lavorare su di noi. L'olio è fondamentale quando vogliamo entrare di più in sintonia e in armonia con il nostro essere. Quindi è quello che ho fatto. Ho fatto semplicemente un esperimento su di me. Quindi questo esperimento su di me poi lo voglio portare negli altri webinar. Però mi piacerebbe che magari mi dicessi tu, nel tempo che abbiamo a disposizione, qual è un olio che va a lavorare di più sullo stress, sulla parte, poi io interagisco con te, la meditazione come potrebbe essere utile collegata allo stress. Cioè qual è l'olio che tu consiglio, suggerisci dal momento quando c'è una forte tensione, una forte pressione a livello lavorativa, a livello anche di vita, cioè collegata alle nostre cose che facciamo quotidianamente. Secondo te qual è un olio essenziale? Allora, quello che viene, il primo che normalmente viene suggerito per alleviare lo stress, per allentare la tensione è la lavanda. Perché porta un senso di calma, porta un senso di pace. Fanno, diciamo che magari non abbiamo tanto tempo di parlarne adesso, però essendo che passano attraverso l'olfatto, in questo caso soprattutto, però diciamo la lavanda anche ingerita, hanno visto che porta proprio degli effetti benefici sull'ansia. Però diciamo che prevalentemente passano per la via olfattiva e vanno direttamente nel sistema limbico che è quello che poi genera la produzione, comanda diciamo la produzione di ormoni piuttosto che di sostanze chimiche all'interno del nostro corpo. Così hanno un effetto reale, non è un chissà perché funziona. Cioè ci sono delle motivazioni molto diciamo provate, scientificamente provate e spiegabili. Normalmente si usa la lavanda perché la lavanda rilassa, calma, ci aiuta a comunicare, ci aiuta ad essere più stabili, più sereni e può aiutare in caso di stress. Non tutti però l'accettano perché può essere anche un olio che un po' ti fa lasciare andare, no? Ti fa lasciare andare. Allora tendenzialmente chi vuole sempre avere tutto sotto controllo magari non accetta la lavanda subito. Per cui diverse persone mi è capitato che non la volessero. E poi per esempio se io ho una giornata che è stressante, magari non uso la lavanda perché mi calmerebbe magari troppo. E allora posso usare invece per esempio l'arancio dolce. L'arancio dolce porta calma, porta positività, allevia lo stress, però nello stesso tempo mi aiuta ad essere attivo, mi aiuta ad essere collaborativo per cui anche se mi trovo in un ambiente un po' stressante io posso trarmi dei benefici. Quindi l'arancio è un altro che viene usato tantissimo per i problemi di stress. E va bene un po' quello veramente ho trovato pochissime persone che non l'accettano, non lo tollerano. Perché ti dà quel senso di abbondanza, di appagamento. Cioè hai tutto quello che ti serve. Quella è la sensazione che hai. Quindi ti calmi, riesci a pensare, riesci magari a pensare anche a delle alternative. Hai un problema e quello ti aiuta a pensare a qualche alternativa. Per cui nel momento in cui per esempio tu mediti con un olio del genere ti aiuta ad avere una visione un pochino più ampia. È molto molto utile. E un altro invece è quello che tu stai usando che è balance. Anche quello è molto radicante, stabilizzante. Per cui se io ho bisogno di allentare lo stress, quello si usa anche per esempio per chi viaggia molto, per problemi di jet lag, che sta sempre per aria. E qualche volta lo stress è anche quello che non hai stabilità. Cioè non riesci ad avere un punto a cui appoggiarti. E balance ti aiuta. Tu prima mi hai detto riesco ad essere più focalizzato sui progetti. È vero. Quali sono gli ingredienti di balance? Balance contiene fondamentalmente frankincense, contiene dei legni, dei fir. Contiene, anzi fir non ricordo, però anche della camomilla blu tedesca. Infatti lo vedi che ha un colore un po' blu astro o blu tansi. Sì, mi sembra blu tansi. Ok? Per cui è un misto di fiori e di legni. E questo, il legno, ok? L'olio essenziale di legno è un... porta pazienza, porta stabilità. Mentre per esempio voi pensate a com'è in natura. Il fiore sboccia e poi appassisce in tempi brevi. Invece il legno è una cosa che viene costruita con pazienza dalla pianta, con l'andare del tempo. Con calma, ma con costanza cresce. Magari in maniera impercettibile. Per cui il legno ha un po' questo effetto rispetto magari al fiore, che è calmante, assolutamente sì. Ci dà questo senso di leggerezza, questo senso magari di tranquillità. Però il legno fa un lavoro un pochino diverso. È una stabilità un po' diversa, ecco. Una calma un po' diversa. Bello. Quindi per lo stress, se una persona un po' stressata, sia lavorativamente parlando che magari deve prendere le decisioni, deve fare delle scelte importanti, quale prodotto consigli? Quindi l'arancio, giusto? L'arancio, lavanda, lavanda, balance. Però volendo si può anche considerare questo, la menta. Uno dice ma la menta non è un olio rilassante, è un olio energizzante. In realtà ci libera la testa. Per cui nel momento in cui noi dobbiamo prendere una decisione, abbiamo bisogno di ossigeno, abbiamo bisogno di pensare, abbiamo bisogno di creare uno spazio per delle nuove idee, delle nuove cose. E la menta ci dà questo senso di apertura. Per cui anche la menta paradossalmente potrebbe essere un olio che allenta lo stress. Ok, ottimo. Io sono suggerimenti che se avessi carta e penna li appunterei. Perché? Perché dal momento in cui abbiamo queste informazioni e voglio associare questi elementi alla meditazione, è sicuramente molto più facile entrare in un processo decisionale. È molto più facile entrare nel calmare la mente, entrare proprio in un'intenzione specifica che ci aiuta a trovare soluzioni. Quindi sia la meditazione che ha un'ottima integrazione, ma associata a degli elementi che potrebbe essere migliorare la nostra cultura alimentare. È chiaro che se faccio la meditazione dopo che ho fumato un pacchetto di sigarette o dopo che ho mangiato troppo, la meditazione serve poco. Ok? Quindi anche la meditazione dal momento in cui ho fatto una nottata, ho fatto la notte di capodanno, quindi mi sono divertito un sacco, fare la meditazione il giorno dopo serve ben poco. Ok? Quindi vediamo gli elementi che abbiamo a disposizione come integrazione. È chiaro ed è ovvio che serve una qualità di vita, uno stile di vita che ci aiuta a focalizzarsi meglio nella nostra direzione. Quindi ogni volta che uno deve fare una meditazione o vuole fare una meditazione, deve farsi la domanda classica. È che cos'ho bisogno oggi? Se il mio bisogno è quello di dormire, allora è meglio che dormi. Associandolo a uno stile di vita, a una qualità di alimentazione utile a quello che noi vogliamo giustificare. Cioè è chiaro, non posso mangiare troppo. E integrandoli agli oli essenziali, cioè è straordinario. Cioè la velocità e il processo che ci aiuta e ci guida nell'arrivare più facilmente al risultato, quello è, perché tutti noi vogliamo arrivare prima, prima a un risultato. Solo che ci devono essere delle caratteristiche più importanti. e c'è una domanda. La leggi tu? Ah, la leggi te? Ah ok, guarda la replica, va bene. Sì esatto, guarda la replica. Sì, 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 beh, ciao Graziano. Allora, tolgo un attimo, scusate. Il punto è fondamentale intanto osservare lo stile di vita, la qualità di vita che abbiamo a disposizione. Se non hai dormito per una settimana, perché hai dovuto lavorare su un grosso progetto, perché hai avuto un problema familiare che devi gestirlo, è chiaro che gli ingredienti esterni ci aiutano a ridurre il tempo di recupero, perché il recupero ci deve essere. È una forma naturale della nostra vita. Cioè se guardiamo in natura, anche un animale che percorre un certo periodo di tempo la sua strada come un uccello, come comunque un elefante stesso ha bisogno di un suo recupero. È normale che il recupero di un animale è diverso dal nostro modo di vivere. Quindi il nostro modo di vivere è che cosa ho bisogno oggi? Ho bisogno di dormire di più? Allora mi associo la meditazione nel dormire bene, rilassarmi, avere un sonno più profondo e utilizzando gli ingredienti naturali, potrebbe essere anche la tisana, potrebbero essere... io non sono molto d'accordo sugli integratori nel lungo periodo. Adesso sto valutando il fatto degli oli essenziali, ne bastano una goccia, cioè della lavanda, è quella che ho qui tra le mie mani, ne bastano due gocce, le ho provate a mettere sotto i piedi. Quindi, perché io sono molto sensibile agli incensi, agli odori, comunque i profumi molto forti. Cioè non mi fanno dormire. Se ho in camera un profumo molto forte, anzi fa l'effetto contrario. Allora ho provato così, come è scritto da qualche parte, ho messo due gocce sotto i piedi. Quindi non sento direttamente il profumo, non sento direttamente l'odore in stanza, ma il mio corpo lo percepisce. Ok? Quindi sicuramente farsi le domande è la parte fondamentale, è la chiave di svolta che ci permette di riuscire più velocemente in un risultato. L'obiettivo principale è ascoltare il corpo. L'ascoltare il corpo, perché possiamo parlare subito di tecniche di meditazione, di prendi due gocce di olio e vedrai che ti passa tutto. Ma il punto è, intanto, imparare ad ascoltarsi. Quando impari ad ascoltarti, ok, che cos'ho? La cervicale? Sì, non è il mal di testa, ma è la cervicale. Oppure ho un blocco allo stomaco, oppure una resistenza nella parte alta del collo, è già mettersi in ascolto. Quindi quando uno inizia già mettersi in ascolto, puoi fare qualcosa di diverso. Quindi da lì puoi interagire. Mi trovi, ti trovi d'accordo? Assolutamente sì. E quindi quando ti metti in ascolto puoi iniziare lì a fare il tuo processo. Sia che sia un olio speciale come questo, che uno può dire è miracoloso, ma finché uno non lo prova, non lo può capire. Come tu mi insegni, mi dici, Carlo provali, provali, sperimenta, fai, fai delle prove. È vero, è vero. Cioè non è che devi credere a quello che dico io. Cioè devi provare, perché intanto alla fine è un investimento di quanto? Un olio può costare da quanto, scusa. Da 15 a 30 euro, no? Beh sì, diciamo, ce ne sono anche di più costosi, però con 15 euro prendi un arante buonissimo. Quindi iniziamo a capire, poi quelle persone che sono interessate possono contattare te direttamente. Iniziamo a capire, ho costantemente la cervicale, è un periodo di tempo che ho la cervicale? Ovvio, intanto mettiti in ascolto. L'alimentazione com'è? Com'è il tuo sonno? La qualità del tuo sonno? Qual è la qualità dei tuoi pensieri? Qual è la qualità del tuo linguaggio, della tua comunicazione? Come esprimi con te stesso? Come esprimi nel mondo? Quali sono i tuoi obiettivi? E poi da lì, quando ti fai questo processo di domande, le integrazioni sono molto, molto utili alla nostra vita. Vanno provate, va sperimentato, va creata quella curiosità bambina che c'è dentro di noi, quella stessa curiosità che ti spinge a dire, caspita, alla fine aveva ragione. Perché è inutile che ti dico prova la lavanda che sarà la soluzione della vita, finché non la provi non lo puoi sapere. Tanto è un olio. al massimo lo usi per farti un massaggio, no? Cioè non è che... Mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento, vai. Ok, parliamo di meditazione. Perché hanno fatto una domanda poi, perché hanno fatto una domanda specifica se vuoi dopo, eh? Sì, facciamo una cosa alla volta, quindi parliamo di stress. Intanto quando siamo stressati è metterci in ascolto, respirare e stare in mezzo alla natura più tempo possibile. O meglio, osservare la natura. Se non possiamo stare per un lungo tempo in mezzo alla natura perché non abbiamo disponibilità, perché non abbiamo tempo, io penso che ognuno di noi ha un parco vicino casa. Quindi, se in queste giornate di caldo uno non riesce ad andare lontano da casa, o queste giornate che uno ha a disposizione, anche un'ora, mezz'ora, si mette in un parco, si mette in ascolto, quali sono i miei bisogni? Vedrai che il tuo corpo comunica e inizia a parlare con te stesso. Quali sono i tuoi bisogni? Dicevi la domanda? No, vabbè, dopo la domanda specifica su una problematica, come usare meditazione e aromaterapia, ma vai avanti con quello che stai dicendo, dopo magari rispondiamo a lei. Quindi stress, lo stress è associato a delle paure. Quando io ho paura di volare, e ormai tutti lo sanno, infatti quando mi vedo nell'aeroporto c'è qualcuno che mi conosce, mi punta addosso il dito, no? Ah, sei tu Carlo Lesma che hai paura di volare. Sì, è meglio, no? Almeno lo so, quando ho ancora più paura. No, vabbè, adesso partono gli scherzi. Però questa cosa, che è vera, mi provoca stress. Lo stress da cosa nasce? Da una mancanza di conoscenza, o meglio, da una mancanza di competenze e di ricerca per quello che vogliamo realizzare per noi stessi. È chiaro che tutte le cose nuove ci portano stress, tutte le decisioni ci portano stress, tutte le varie scelte ci portano comunque un forte stress, tutti i cambiamenti portano stress. Quindi lo stress bisogna capire da dove parte, dove nasce, cos'è per me lo stress e che cosa sto vivendo in questo periodo di tempo. Una volta che lo comprendo, inizio a respirare e a vivere il momento presente. Perché se inizio a guardare il momento che accadrà, quando accadrà quella cosa, entri già in agitazione. È la stessa cosa che è capitata a me in questi giorni, quando ho unito tre corsi, tre eventi, in tre giornate differenti, in tre località differenti. Io sono arrivato la domenica sera, che è emersa in me una sensazione di forte ansia, di forte stress. Perché? Perché il mio pensiero era già oltre. Era già a quando finirò tutti gli eventi, allora sarò stanchissimo, il mio corpo non ce la farà più, non riuscirò ad affrontare la settimana. Ero entrato in una comunicazione, in un dialogo mio interno devastante, che mi ha portato a un calo di energia assurda. Allora, quando tu ti concentri in quel momento presente, sto vivendo questo momento, intorno a me cosa c'è? Inizia a entrare nel tuo momento. E l'olio, e l'olio essenziali, ti aiutano quando tu li usi bene, e li usi nel momento giusto, e fai la meditazione, e la replichi, e la replichi, e la replichi, per un tot di giorni, e usi lo stesso olio, è quello che ho provato io, basta che in quel giorno lì, ok, che sei magari sotto agitazione, sotto pressione, ti ricordi di sentire lentamente il profumo, e chiudendo gli occhi, quello che dicevo prima, la tua memoria inconscia, la tua memoria storica, ha registrato già quel momento che ha vissuto quei 21 giorni, di calma, di concentrazione, di relax, e se la tua energia, la tua tensione era a 100, in quel momento scende a 40. Vuoi fare la differenza con 40 rispetto a 100? Io direi di sì, quindi sono situazioni che per qualcuno possono essere dei cerotti, per qualcun altro che vivono costantemente questa situazione di stress, caspita, non è di aiuto, sì o no? Assolutamente, e poi quel richiamo mnemonico di cui hai parlato, è molto rapido, cioè l'olfatto è il sistema più rapido, il senso più rapido che abbiamo, per cui lavora molto, molto velocemente. Così come tu hai detto, se tu ti abitui facendo la meditazione, e utilizzando un certo olio, nel momento in cui richiami attraverso l'olfatto, diciamo l'aroma, in pochissimi istanti rientri, se ti concentri un attimo, come dici tutti, vedendo gli occhi, rientri in quella situazione di benessere, che è tipica della meditazione, no? Assolutamente sì. Quindi stress, ricordiamoci sempre, che lo stress nasce principalmente da una sensazione di paura, da una sensazione di non controllo, quando non abbiamo un controllo di quella situazione, ci sale lo stress, ci sale l'ansia, ci sale una situazione di oddio, mamma mia. Quindi in quel momento lì, come hai detto te, devo utilizzare, se io so che ho paura di volare, cosa farò? In termini molto semplici, naturali, per 21 giorni, ok? Farò una meditazione, dove? Per 21 giorni, ma anche per due settimane, o tre settimane, almeno tre settimane, perché è quello il processo di cambiamento. Farò una meditazione, che mi vedrò e visualizzerò me stesso, che sono sull'aereo tranquillo. Nel momento in cui visualizzo questa situazione, associo a me un olio, un olio essenziale, associo a me una musica che mi fa stare bene, associo a me comunque una visualizzazione, quando sarà, quando vivrò quel giorno, porterò con me quell'olio essenziale, porterò con me quella musica, l'ascolterò, e sicuramente non è che, Ale, salgo sull'aereo che sono, voglio di fare festa, può essere, salirò sull'aereo che se prima ero stessato, ero a 100, magari avrò una tensione che è 30-40, ok? Questo è l'aiuto che ci deve dare il ricordo, la nostra memoria storica, cioè, a me piace molto lavorare in questo periodo di tempo, nel smuovere i meccanismi inconsci, quei vecchi paradigmi che spesso sono ancorati o sono registrati nella nostra memoria storica, che purtroppo ci possono essere d'aiuto, possono essere a nostro sfavore. Quindi, il mio lavoro in questo periodo di tempo è andare a prendere in mano questi paradigmi, smontarli, e creare dei nuovi paradigmi, quindi delle abitudini, dei nuovi comportamenti, delle nuove convinzioni, per realizzare quello che realmente vuoi. Quindi, tutti questi ingredienti sono potenti, no? Di più, strapotenti. Poi, abbiamo detto che parlavamo anche della, oltre allo stress, anche al dormire, sonno. Io ho prodotto in questi ultimi anni molti audio di registrazione che sono collegati, sono anche su YouTube, collegati a dormire bene, tecniche per dormire bene, sonno profondo, dormire bene, super sonno profondo, ho creato un videocorso anche per dormire bene, dove cito anche delle varie esercizi per riuscire a dormire più rapidamente, o meglio, avere un sonno di qualità. Perché molte volte consideriamo il sonno come devo dormire otto ore, devo dormire sette ore, devo andare a letto a quest'ora, perché almeno domani mattina mi sveglierò più riposato. in realtà anche lì purtroppo non è facile gestire il nostro meccanismo inconscio, il nostro pensiero, quando non riconosciamo il nostro pensiero stesso, o meglio, la giornata o la settimana che stiamo vivendo. Perché se riconosciamo la nostra giornata, riconosciamo la nostra settimana che stiamo vivendo con una certa tensione, è chiaro che va a influire sul nostro sonno. quindi è molto meglio la qualità del sonno, le ore che dormiamo non sono tanto determinanti quanto è la qualità del sonno. Io posso dormire anche sei ore o cinque ore o quattro ore bene e poi fare una meditazione durante il giorno e sono fresco come una rosa. Solo che noi siamo abituati a pensare no, devo dormire otto ore. E quindi il fatto già che tu pensi devo dormire otto ore, vai a letto a mezzanotte e ti devi svegliare alle sette e già ti viene l'ansia. E dici caspita, dormo un'ora in meno. Non è così o meglio. Questo è un paradigma. Questa è una vecchia abitudine. Quindi lavorare sull'osservazione nel dire com'è la mia energia in questo momento da 1 a 10 a quest'ora come mi sento? Ah, mi sento 3. E quindi è molto importante capire che puoi andare a letto un po' prima e magari svegliarti prima. E fare le cose che hai lasciato il giorno precedente farle il giorno dopo magari svegliandoti un'ora prima. Molte volte noi consideriamo il fatto del dormire e devo dormire otto ore. Quindi vado a letto alle 11 e mi sveglio alle 7. Cambiamo questa mentalità perché un bambino quante ore dorme? Quanti cicli di sonno fa? Quanti cicli di sonno ha? sono tu hai avuto una figlia quindi vedevi che giusto una figlia Claudia giusto? Ho qualche figlio sì però sì tendenzialmente hanno più bisogno di dormire però sono completamente d'accordo con te che purtroppo tante volte cioè non è neanche tanto quante ore dormiamo ma la qualità del sonno che abbiamo per cui noi possiamo benissimo dormire tante ore ma alzacci stanchi o dormire meno ore nella maniera giusta e va benissimo va benissimo quindi dormire dormire è importante sì anche lì è importante ascoltarci è importante avere un ciclo cioè se per questa settimana vado a letto tutte le sere a mezzanotte mi devo svegliare alle 6 ti dico una cosa che funziona per me e se so che dormo poco devi mettere in tranquillità l'altra immagina che dentro di te c'è un'altra persona che è quella che costantemente ci dialoghi per 24 ore dialoghi se sei in silenzio con qualcuno per 24 ore parli con qualcuno allo specchio parli con qualcuno cioè devi immaginare che dentro di te c'è un tuo amico c'è una tua amica è quella persona che devi gestire che devi mantenere mantenere quella calma quindi una cosa che funziona a me e penso e spero che è un suggerimento che posso lasciare a tutti e quando vai a letto e stai dormendo per poche ore ripeti dentro di te anche se avrò poche ore di sonno ma queste ore di sonno mi aiuteranno per rigenerare la mia energia per ricaricarmi per stare bene ok comunque uno si può creare la sua frase e dire anche se avrò queste ore a disposizione so che riuscirò a recuperare la mia energia e domani starò bene ok quindi in questo caso tu stai mettendo in pace quell'amico che c'è dentro di te è chiaro che tutti gli ingredienti aiutano a rilassare i nostri tendini i nostri nervi i nostri muscoli perché è quello che abbiamo bisogno oltre a riposare la mente abbiamo bisogno di riposare anche il corpo perché sono due cose collegate quindi a lì entrano in gioco gli oli essenziali così come le tisane così come l'allenamento fisico gli oli essenziali la lavanda che tra l'altro eccola qui è molto viene usata anche negli armadi per allontanare le zanzare le mosche no? o l'insetto anche per le punture viene usata per tantissime cose la lavanda ok vuoi dirci qualcosa sul sonno? cioè ci puoi dare qualche suggerimento come prendere gli oli essenziali quando uno va a letto? allora ci sono alcune cose che funzionano molto bene a me è capitato alcune volte di avere a che fare con delle persone che hanno preso la lavanda una volta e mi hanno detto non funziona io stannotte non ho dormito in realtà siccome non vanno a violentare il nostro organismo in nessun modo perché agiscono in maniera naturale qualche volta hanno bisogno di innescare nell'organismo alcuni processi che sarebbero naturali e che magari abbiamo perso c'è da dire però una cosa riguardo a quello che tu dicevi che tante volte una persona mi dice io dormo poco dormo male poi magari si addormenta davanti al televisore o davanti al computer o davanti allo schermo del cellulare e il corpo ci impiega di più ad entrare nella fase di riposo vero perché è stata tra le volte stressata fino all'ultimo secondo quindi noi sarebbe utile intanto magari non mangiare proprio prima di andare a letto per cui sono proprio cose fisiche per cui se so già che ho poche ore magari non mangio una pizza e poi vado a dormire perché sennò quelle poche ore il mio corpo non riuscirà a riposare per cui magari avere questa attenzione dopodiché io posso creare un ambiente per cui posso diffondere la lavanda già mezz'ora prima in modo che quando io entro nella stanza sento già un clima di benessere di rilassamento e qualche volta si tratta di usarla più di una volta è uno degli oli che funzionano meglio non funzionano su tutti è vero questo la lavanda perché magari qualcun altro la lavanda ti rilassa ti fa lasciare andare ma ci sono persone che quando vanno a dormire hanno paura a lasciare andare perché vuol dire isolarsi per quel movimento dal mondo vuol dire perdere il controllo per cui non mi va bene allora come dicevamo prima posso usare l'arancio posso usare un altro olio che è il frankincense posso usare un altro olio che invece mi mette nella condizione di dire ok non sto abbandonando il mondo semplicemente mi sto prendendo un momento di riposo così il mio corpo e la mia mente possono godersi quello che tu dici ho poco tempo ma il mio corpo se lo gode questo riposo non è in che modo secondo te può una persona capire qual è meglio un olio o cosa fare meglio per una cosa e qual è meglio quindi dicevi magari la lavanda non è adeguata ascoltandosi come dicevi tu perché ognuno di noi è diverso per cui fondamentalmente ascoltandosi certo che se io so che il mio problema è che quando vado a letto la testa mi parte cioè io non mi addormento perché ho il pensiero del giorno dopo magari posso prendere l'arancio che tra l'altro allontana la paura perché magari io vado per andare a dormire e che ne so mi viene il timore del buio perché il buio mi mette un senso di ansia di stress e non riesco a rilassarmi per cui posso usare l'arancio come possono essere usati i diffusi nell'ambiente possono essere messi sul cuscino cioè ti sporchi la mano e la passi sul cuscino la metti sotto i piedi poi metterlo sul tetto sui polsi e magari cominciare a farlo un pochino prima in modo che si creino una specie delle routine in qualche modo che magari mi richiedono poco tempo perché non tutte le sere potrò fare prendermela con comodo fare il bagno rilassante con la lavanda ok perché magari non ho molto tempo e allora faccio delle cose che siano veloci brevi ma che permettano all'organismo di entrare più velocemente nella fase del riposo vero così lavanda va benissimo va bene arancio va bene anche frankincense che è l'incenso la mosveglia va benissimo che tra l'altro è un olio che aiuta anche con chi ha problemi di incubi per esempio può andare bene per esempio il ginepro il ginepro che è l'olio per eccellenza per le paure per cui io ho paura di qualcosa che non sempre so che cos'è il ginepro va bene può aiutare per esempio il vetivè il vetivè che è una radice che è molto calmante però fra quelli che tu hai se io dovessi dirti fra quelli che tu hai benissimo la lavanda benissimo il pis il pis che è quell'olio che porta sicurezza che porta calma ti fa sentire in uno stato dire va tutto bene io ho un'amica che mi diceva siccome la domanda era per esempio anche per una perdita un'amica che ha perso per esempio il papà e lei usava il frankincense quello che tu hai incenso bosveglia lei lo metteva sui polsi e ha detto quando io metto quell'olio ho l'impressione che tutto andrà bene e lei dice io con quello dormo che è una meraviglia un altro olio che potrebbe aiutare si chiama copaiba adesso non è che voglio tirarteli imballo tanti però diciamo che il primo normalmente è la lavanda ok per addormire e per dormire bene cioè meglio la lavanda ok sì tra quelli sì è uno dei primi che viene indicato ok associato a questo processo è sicuramente molto importante prima di andare a letto è tenere bassa la luce cioè non avere le luci forti ok quindi evitare almeno mezz'ora prima di guardare il cellulare il computer e altre cose perché comunque dentro la nostra memoria storica quando l'inconscio registra che ci sono delle luci specialmente delle luci della colorazione sottofondo blu riconosce che è ancora giorno quindi non aiutiamo la nostra parte più profonda a entrare in sintonia con la notte ok che abbiamo bisogno di dormire non tanto di mantenere costantemente il nostro cervello acceso che comunque il nostro cervello è sempre acceso anche quando dormiamo puoi togliere sistemare la stanza cioè trovare la stanza in ordine quindi questo è un altro elemento importante almeno puoi lasciare tutta la casa in disordine ma almeno la stanza deve essere in ordine cioè il comodino sistemare il libro anche se c'hai 12 libri mettili in pila uno sopra l'altro però che ci sia ordine perché la nostra mente ha bisogno di ordine di equilibrio nello specifico prima di addormentarci per chi piace o meno a me non piace sicuramente gli incensi non mi piacciono quelli accesi però devo dire che ho trovato questo compromesso ripeto con la lavanda a mettere due gocce sotto i piedi perché è comunque lontano cioè se avessi l'odore troppo vicino al naso mi darrebbe fastidio sicuramente il cambio delle lenzuola una volta ogni settimana almeno che ci sia un cambio delle lenzuola poi dipende dalla stagione ovviamente e per quando una persona un po' stressata sarebbe meglio fare degli allungamenti cioè dello stretching muscolare anche per pochi secondi per il nostro corpo e farsi una doccia adesso sto dando degli ingredienti in più che ovviamente sono ingredienti normali per le persone che già lo fanno altre persone che dicono cavolo sono stanco sono sonno non vedono da andare a letto poi talmente sei stanco fai più fatica ad addormentarti sei più stressato sei più stanco quindi almeno utilizza alcuni ingredienti e poi un elemento molto fondamentale è utilizza un linguaggio molto potente che sia utile a tranquillizzare l'amico che c'è in te mi piace chiamarlo amico perché alla fine se tu riconosci chi è il tuo amico che sei sempre tu e crei un dialogo con il tuo amico porti serenità quindi è la cosa più bella di dire ehi sono qua con te torniamo insieme domani sarà una grande giornata queste ore che abbiamo a disposizione saranno utili per rigenerare le nostre cellule il nostro corpo la nostra memoria e domani mattina ti svederai rigenerato con un sacco di idee intuizioni e creatività dove sarà una giornata straordinaria come ti senti quando parli con il tuo amico hai già cambiato sì o no hai già cambiato la tua frequenza l'altra cosa molto più importante molto importante quando ti svegli al mattino anche lì è respirare fare tre respiri profondi bere dell'acqua e iniziare a visualizzare almeno la giornata con un sorriso se uno non riesce a visualizzare la giornata perché non è allenato mentalmente ma almeno guardarti allo specchio e sorridere questa è la cosa straordinaria magnifica che mai ci pensiamo e mai anzi a volte sorridere ci diventa difficile proprio fare un sorriso diventa complesso e dici lasciami stare al mattino non mi devi dire niente al mattino devo stare specialmente io non riesco non riesco è andata via è andato via qualcosa non so cosa è successo tu mi vedi? ah sì adesso è tornato mi senti? prova io ti sento ti sento ti sento ok il mattino il mattino è molto difficile allora uno se si conosce almeno se non vuole parlare col mondo esterno non vuole parlare con se stesso almeno un bel sorriso anche finto è interessante perché la mattina la prima cosa che mi fai invece quando guardo il specchio dici ma che faccia che ho no ma proprio anche se proprio fingi piuttosto fingi ma anche se non rigi a squarciagola perché tanti dicono c'è anche lo yoga della risata che è bellissimo come strumento però io non ce la faccio cioè è una roba più forte di me quel mattino sono ancora nella mia caverna bene quindi siamo in fase di conclusione direi che concetto stress ansia e dormire dormire bene ci aiuta a liberarci dallo stress il dormire bene ci aiuta a essere meno ansiosi è che dobbiamo iniziare sempre di più ad ascoltare la nostra prima necessità collegata ai nostri bisogni che cos'è che ho bisogno in questo momento ho bisogno di più tranquillità ho più pace ho bisogno di mantenere i miei pensieri più liberi leggeri oppure ho bisogno di ritornare bambino oppure ho bisogno di ritornare a sognare scrivere e pianificare magari il mio nuovo mese la mia nuova settimana il mio nuovo anno oppure ho bisogno di stare insieme a persone che mi fanno sorridere un po' di più e iniziare ad entrare ad ascoltarci poi la cosa che ormai secondo me facciamo sempre di meno è sperimentare perché abbiamo paura perché abbiamo paura che c'è dietro una fregatura che qualcuno ci stia dando qualcosa che non è collegato a quello che realmente desideriamo alla fine se una persona sta guardando questo video se una persona è connessa nella ricerca del benessere interiore oppure vuole ricercare qualcosa di più semplice di più naturale che ti permette di entrare rapidamente in sintonia con la tua parte più profonda ed entrare più rapidamente in armonia con i tuoi pensieri col tuo corpo allora quelli sono momenti essenziali per renderli più semplici cioè la semplicità è quello che ci aiuta a a conoscerci meglio quindi utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione cioè la meditazione ripeto è uno strumento gli oli essenziali sono uno strumento non di aiuto di più cioè ci aiutano sicuramente a entrare più rapidamente poi magari si può dare un cenno già nell'antichità come usavano gli oli giusto perché sono stati usati tanto tanto nel senso ediziani indiani piuttosto che tutti i popoli li hanno utilizzati se si va indietro a guardare nella storia venivano utilizzati per riti religiosi venivano usati per imbalsamazioni per la bellezza per tante ragioni perché in effetti hanno tante proprietà diverse diciamo che il fatto magari che fossero utilizzati per dei riti religiosi ha anche un significato perché riescono tutto sommato a portarti in sintonia in un certo modo per cui riescono ad andare dentro così all'inizio del novecento diciamo che sono stati utilizzati tanto per sono stati riportati in voga come diciamo benessere fisico e benessere cosmetico bellezza diciamo e piano piano ci si sta rendendo conto invece che vanno molto 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 oltre cioè che quello che fanno va veramente a smuovere le corde dell'anima quindi la cosa che a me piace tantissimo degli oli essenziali è che non ti forzano mai prima parlavamo non so per esempio nel venuto in mente dicevi di fare qualche cosa che sia in linea no però la menta piperita per esempio che è un olio energizzante io posso anche usarlo la sera ma se ho sonno dormo lo stesso non farà qualche cosa che il mio corpo non è pronto a fare cioè non è un caffè o uno stimolante che mi tiene sveglio anche quando io avrei bisogno di dormire per cui piano piano ci prendono per mano e ci accompagnano in questo percorso ci accompagnano verso verso quello che è il nostro vero benessere no quello che veramente ci fa stare bene e mi è fatto venire in mente anche un'altra cosa prima per esempio se io sono carico di una giornata di stress un altro olio di cose che sono successe che magari mi sono fatta insomma ho avuto delle difficoltà energeticamente sono stata messa alla prova la melaleuca è un ottimo olio per esempio io conosco degli psicologi che la sera la notte diffondono la melaleuca nel loro studio per scaricare di tutto il clima di tensione e di stress e di negatività o comunque il carico che rimane in un ambiente del genere per cui anche quello è un olio che paradossalmente potrebbe essere utile per dormire bene perché mi scarica mi protegge energeticamente da qualcosa che non va bene che non mi aiuta però alla fine fanno quello che è meglio per noi ok quello che è meglio per noi qualche volta magari noi non capiamo esattamente come stanno lavorando ma di sicuro lavorano e di sicuro lavorano nel modo migliore per aiutarci ad avere il vero benessere cioè non è una pastiglietta che metti e ti fa dormire è un modo diverso completamente diverso di lavorare ok grazie secondo te quindi tre suggerimenti una persona che magari ha delle resistenze fisiche dei blocchi magari delle tensioni muscolari che tipo di olio potrebbe usare io parlo di quelli che tu hai ok senza andare a cercare troppo il di blu per esempio va benissimo c'è chi va a dormire la sera e non dorme perché ha le gambe che sono a pezzi che sono stanche e una passata di di blu rilassa o manca la lavanda perché la lavanda è un antispasmodico un massaggio un massaggio sulle gambe e sulle sui polpacci fino ad arrivare ai piedi benissimo meglio se c'è qualcuno meglio se c'è un massaggiatore ovviamente in casa sì va bene ma anche se non c'è un massaggiatore vedrai che se te lo passi va bene va bene c'è anche la coccola così va meglio ok poi almeno un altro un altro suggerimento bella questa questa idea altro suggerimento se una persona è qualche notte che non riesce a dormire o meglio vuole ritornare nel suo equilibrio del sonno la lavanda la può anche ingerire la lavanda c'è una goccia sì poi anche allora siccome non ha un gusto buonissimo però puoi metterla nel miele puoi metterla nell'acqua si possono mettere nelle capsule vegetali due gocce dentro è ingerita e ha lo stesso effetto ha lo stesso un buon effetto sì hanno fatto degli studi dove proprio hanno scoperto che non è si pensava che andasse bene solo esternamente per riposare e togliere l'ansia invece degli studi recenti di qualche anno hanno dimostrato che assolutamente anche ingerita può aiutare tantissimo ad alleviare ansia stress e favorire il sonno ottimo quindi va bene un umidificatore un vaporizzatore anche quello e poi un altro suggerimento giusto per chiudere la terza fase è una persona che durante la sua settimana magari viaggia spesso oppure in ufficio che è sotto pressione per un nuovo progetto oppure sta lavorando su una nuova idea oppure ha tante cose da portare a termine cosa è meglio cioè secondo te balance cos'è cosa è meglio balance io userei balance si porta sulla focalizzazione si porta sulla centratura e ti fa portare a termine i tuoi risultati giusto? balance aiuta tantissimo un'ultima cosa scusami Carlo perché così chi non ha il diffusore se no magari poi va in pagno e dice non so come usarlo un altro sistema è mettere un pochino di acqua in uno spruzzino non di plastica per cui preferibilmente di vetro o di metallo e spruzzarlo nell'ambiente sulle lenzuola sulle coperte ok quello è un altro sistema per averlo nell'ambiente se non hai un vaporizzatore come viene chiamato diffusore ok almeno abbiamo tre oli essenziali o meglio tre suggerimenti come dormire bene come evitare alcune alcune caratteristiche legate allo stress o come nasce lo stress e come utilizzare gli oli almeno diamo un suggerimento così come abbiamo fatto e imparare sempre di più ascoltarci perché quando uno inizia ad ascoltare la sensazione le vibrazioni le emozioni e troviamo il modo giusto di interpretarle diventa tutto più facile quindi intanto è entrare in ascolto entrare in sintonia e qualcuno mi dice ma qual è la meditazione più giusta per me aiutami dammi un consiglio dammi un suggerimento non esiste una meditazione perfetta e esiste tu che ti fai la domanda perfetta in base alla tua esigenza in base al tuo ascolto quindi quando ti ascolti hai ingredienti hai persone come Claudia come riferimento che tu la puoi chiamare li puoi scrivere chiamare magari quando c'è più ovviamente più sinergia però li puoi scrivere e ti risponde e ti dice guarda che è meglio che usi questa essenza perché ti aiuterà a e cavolo abbiamo uno strumento tra le mani di conoscenza di sapienza di saggezza che spesso non ci rendiamo conto perché andiamo a prendere delle pastiglie che poi possono farci male e creano la sua fazione in realtà è stai allenando il tuo corpo la tua mente a creare qualcosa di nuovo e a comprendere qualcosa di differente rispetto a prima e dici caspita ci ho messo 45 anni 46 anni per capire che esiste anche questa roba eh sì magari se stai guardando questo video stai guardando questa diretta o ti è arrivata l'informazione per caso è il momento almeno di interessarti almeno di conoscere almeno di ci provo stuzzico cioè stuzzico devo dire non ho mai provato a mangiare per un giorno o per una settimana solo verdure seguito da una persona per forza uno deve essere vegetariano però almeno provi a capire la tua energia se è più bassa più alta inizia a comprendere il tuo corpo com'è perché finché non provi non testi il tuo corpo il tuo fisico non riesci a comprenderlo no? perché se una persona ha sempre parlato ad esempio davanti a un pubblico di 10 persone poi se ne trova 100 è normale che trovi una sensazione di stress di ansia di panico eccetera eccetera ma se mai ci provi mai riesci a battere quella quella percezione quella sensazione che hai gli ingredienti ti aiutano come gli oli essenziali e come la meditazione ti aiuta tantissimo io chiuderei questa sessione qui con magari con le tue ultime magari due vogliamo rispondere un attimo alla domanda della vita di Anna che chiede quale meditazione e olio si può utilizzare quando si è subita una forte perdita affettiva che oli si possono usare qual è meditazione e quale olio si può utilizzare quando si è subita una forte perdita affettiva allora dal mio punto di vista questo è un mio punto di vista in base all'esperienza che ho maturato in questi anni lavorando con le persone o la meditazione la usi e sei a un alto livello di meditazione vuol dire che hai fatto tanta pratica di meditazione allora utilizzi la meditazione oponopono il perdono il lasciare andare l'amore l'amore incondizionato la meditazione dell'amore la meditazione del cuore però devi aver raggiunto questo ti parlo della mia esperienza e esperienze di altre persone devi aver raggiunto una consapevolezza alta e devi aver praticato la meditazione per tanto tempo e se non hai mai praticato la meditazione per tanto tempo evita di fare la meditazione perché ti fa da effetto volare come dire non ho mai guidato una barca a vela sono in mezzo al mare adesso tiro sulla vela perché ho paura del vento ho paura del temporale non riesci a gestire l'albero e inizia l'albero a sbattere a destra e a sinistra e rischi di di prendere l'albero in testa scusa se faccio questa metafora perché questa la realtà è perché stiamo fuggendo da qualcosa ci stiamo bloccando da qualcosa lì non dobbiamo bloccarci e fuggire da niente ma bisogna lasciare andare bisogna accettare bisogna pregare ma bisogna fare azioni concrete a livello lucido a livello mentale che sia lucido quindi fare azioni nel qui e ora nel presente vedere ascoltare sentire pregare usare la fisicità e usare gli oli che io non so quello te lo dirai tu il paradosso è ripeto o c'è una persona che ha fatto tanta meditazione quindi è pronto e preparato a questo e riesce a fare meditazione quindi a gestire il controllo anche quando arriva un'immagine o un'informazione perché non è detto che magari ti fai meditazione arrivano delle parole e stai parlando con quella persona come fai a gestirle e magari senti le sensazioni di quella persona che è accanto a te come fai a gestirle e quindi questa è la parte più tosta tosta da digerire quindi se uno non è allenato è meglio lasciare andare la meditazione e stare nel qui e ora facendo altre cose utilizzando gli elementi naturali ok invece che olio potresti usare per gli oli allora il frankincense come dicevamo prima è molto utile quando si sente si ha una perdita diciamo in generale perché porta conforto porta senso di di coccola proprio di abbraccio di sicurezza se no ci sono miscele tipo una miscela che si chiama console che aiuta nella perdita poi però stando a pensare io vorrei capire se ovvio che la perdita non so di quale di quale genere sia però va elaborata e va poi creata una visione nuova per cui spesso c'è un olio per esempio tipo il cipresso il cipresso è un olio che è per tutti i liquidi del sangue cioè che sono il movimento del nostro corpo per cui il cipresso ci aiuta a capire che la vita va avanti cioè ok c'è successo qualche cosa ma la vita va avanti può proseguire e poi da lì parti sapendo che puoi avere anche gioia cioè sono un po' di percorsi però possono fare tanto gli oli tendenzialmente non mettono il tappo per cui se posso parlare di un'esperienza che non è sicuramente grossa ma per questa persona è stata importante una persona a me molto cara ha investito un gatto che è un amante degli animali che è andata in crisi in maniera paurosa per cui ha preso la miscela che dovrebbe essere quella per i lutti per le perdite ma non non l'ha voluta proprio accettare cioè quel giorno non la voleva accettare ha preso un altro olio che era semplicemente un olio che portava a conforto che portava diciamo il peace che hai preso tu e il giorno dopo ha accettato il console ma in quel momento non era pronta ad essere consolata della perdita di quello che era successo perché aveva bisogno di elaborare questo dolore di trovare conforto in qualcos'altro di trovare pace in quello non nel vuoto che era stato lasciato quello lo ha colmato dopo per cui qualche volta abbiamo bisogno proprio di di lasciarla andare questa cosa e poi costruire piano piano il nuovo non so se sono stata chiara bella bella questa cosa che hai detto Claudia anche perché creare una nuova visione una volta in cui hai già digerito hai già elaborato questa situazione quindi creando una nuova magari cambiando anche olio cioè usi l'olio per lasciare andare e prendi un altro olio per creare giusto? sì 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 per esempio puoi mettere insieme frankincense e limone o lime oppure cipresso mettere insieme un paio di oli che ti aiutano da un lato a farti sentire serena dall'altro a spingere in qualche modo il movimento il cambiamento ok Claudia io ti ringrazio di avermi dato l'opportunità di condividere insieme al tuo gruppo la tua squadra e a tutte le persone che guarderanno su YouTube questo video che poi sarà registrato quindi le persone che mi seguono comunque di contribuire la tua sapienza la tua saggezza che c'è tanto tanto da scoprire tanto da sapere perché comunque è un mondo affascinante e spero che queste puntate continueranno ci saranno altri altri episodi altri racconti che ci aiuteranno a guidarci in questa avventura in questo mondo che è un mondo tutto da scoprire quindi grazie ancora per l'opportunità grazie a te tantissimo grazie partecipanti e ci vediamo al prossimo grazie a tutti quanti al prossimo che abbiamo detto che è siamo al 12 o 13 luglio sarà il prossimo evento sarà sempre un giovedì intorno alla metà di luglio sempre un mercoledì abbiamo detto sì il mercoledì luglio sarà o il 10 o il 17 di luglio perfetto poi vi comunicheremo la data con sicurezza ok grazie grazie a tutti grazie a tutti